Ciao, sono qui a Terni e tra poco ci sarà il mio concerto. Questa è l'ultima data di questo tour estivo, la Felicità in Tour, che è stato bellissimo e di cui sono veramente contenta e soddisfatta. Quindi siamo un po' qui con la mia band a festeggiare prima del concerto, questa sera con la Mosca Jazz Band, che è la mia band storica e ufficiale. Faremo un po' del mio repertorio, quindi dei miei brani, Electro Swing, spiegherò anche cos'è l'Electro Swing, che è il genere di musica che più mi affascina e che sto portando avanti. Alcuni standard, diciamo un po' di musica che unisce il passato con il futuro, quindi la musica swing con quella che è la musica elettronica, quindi c'è un po' questo mix. Questa è l'ultima data, come dicevo, poi ci sarà un tour invernale tra novembre e dicembre e gennaio probabilmente, in cui quindi verrò a trovare tutte le altre città, alcune che ho già visitato quest'estate e altre che visiterò proprio appunto questo inverno. Tra queste città tornerò anche a dicembre a New York, di questo sono contentissima. Che altro dire, progetti futuri tanti, c'è tanta carne sul fuoco, spero che questo mestiere vada avanti per più tempo possibile. Vi ringrazio per tutto il calore che mi avete dato tutti quest'estate. Grazie, ciao! Ciao! Ciao!